nella forma umana quando si dimostra l'io commento l'io si dimostra nella percezione di se stessi quando l'individualità inizia ad incarnarsi nella forma umana l'io è la necessità che ha l'essere incarnato di sperimentare ciò che non ha compreso l'io quindi è un'illusione che si riflette sul modo di affrontare le esperienze della vita fisica pertanto anche l'uomo alla sua ultima incarnazione che al culmine dell'evoluzione umana possiede ancora un io per il solo fatto di essere ancora immerso nella materia e gli deve ancora comprendere qualche sfumatura e quindi qualche illusione per cui una piccola parte di io esiste ancora